Ciao ragazzi e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qua per farvi un nuovo video Acquisti HAHOOL Dove mostrare tante cose stupende Se vi chiedete quale trucco ho Quindi rossetto, illuminante, eccetera Guardate nel box informazione sotto Vi scrivo tutti i prodotti Come al solito li trovate sul mio shop online E anche i gioielli sono i miei La nuova edizione, Natalizia Adoro, stanno andando a ruba Quindi grazie, grazie, grazie Perché li stai acquistando in tantissime Sono anche scontati, quindi approfittate Io oggi indosso il bracciale corno bianco Adoro, col completo con gli orecchini Cerchi, sono tutti argento e oro I miei gioielli, lo sapete Sono ottima qualità E ho abbinato questa mitica collana Che è stupenda, con le stelle lunghe Argento e oro Adoro, comunque li trovate tutti disponibili Su caritashop.com O almeno spero, perché Sto facendo questo video con qualche giorno di anticipo I gioielli vanno a ruba Quindi magari non so se qualcosa è finito Comunque andate a vedere Quello che trovate Perché, vi ripeto, vanno a ruba Sono anche scontati Quindi fate in fretta Fatevi un bel regalo O autoregalo per Natale Questa collana io l'amo Comunque ragazzi Invece il body Ve l'ho mostrato Nel video acquisti precedente Casomai ve lo metto qua nelle schede Così potete andare a vedere Tutte le altre cosine che vi avevo mostrato Anche in quel video Erano davvero stupende Adesso vi faccio vedere Un po' di cosine che ho preso per uso quotidiano Insomma Da Stadivarius Buon vecchio Stadivarius Che ha tutte cose che costano davvero poco Quindi io le prego anche per tutti i giorni Sono molto molto economiche Quindi ok Ad esempio questa maglia 20 euro Ed è un maglioncino Molto molto semplice E carino Che va bene un po' con tutto Quindi insomma È begiolino chiaro Da sotto ci ho abbinato Questa gonna Che l'ho pagata 15,99 pochissimo Che è beige così Molto molto carino Ho pensato di mettere Di abbinare questa outfit così E poi ho preso questa maglia Che è nera Un po' stretta Però comunque pesante Magari da mettere anche nei jeans Per uso quotidiano Vi ripeto Sono molto molto carini Poi sono stata Da Roberta Biaggi Ho preso un altro maglioncino Molto molto carino Ragazzi Questo qua C'ha praticamente la manica Così Guardate com'è bello Ed è praticamente Un po' Largo sotto E anche aperto Quindi si può mettere Sia da dentro Ad una gun Oppure lasciato magari così È molto carino Poi macchio Questo qua Mi piace un sacco L'Oberta Biaggi Ragazzi Ho preso anche le metiche Dr. Martins Quelle là Alte Improvabili Ma io le ho trovate Ragazzi Le ho prese online Sono bellissime Praticamente queste qua Sono un po' più alte Quindi dai Proprio rock Tamar Come piacciono a me Sono bellissime La cosa bella è che Hanno la cerniera Quindi non dovete ogni volta Allacciare i lacci Comunque Io le amo Ragazzi Ditemi se non sono stupende Le ho pagate intorno ai 200 euro Più o meno Le amo Per uso quotidiano Sotto i jeans Sotto la tuta Sono bellissime E mi piace sta cosa appunto Che sono più alte Erano introvabili Ma Carlita Le ha trovate Sono belle Vi farò qualche foto Su Instagram Come al solito Seguitemi Carità dolce Su Instagram Perché vi posto Un sacco di foto Con questi capi Che vedete in questo video Sono state da Camomilla Da Camomilla Anche nel vecchio video A Hool Vi avevo mostrato Delle cose Delle pellicette Cose carine Caso mai Andate a vedere Quel video Per vedere Le cose Altre cose Camomilla Allora ok Ho buttato tutto Per l'aria Vai Allora ho preso Questa magliettina Che è molto carina È tipo Vedete È tipo Brillantinata E porta la manica Incorporata A camicia È bellissima E anche sotto Praticamente c'è questa parte qua Che sembra una camicia Ma è tutt'uno Vedete È troppo bella Mi piace un sacco Poi ho preso Questa qua Che c'era in diversi colori Questa qua Costa Vabbè Queste costano più o meno Tutte intorno ai Non c'è scritto Comunque Questa qua È carina Perché ho pensato Da sopra i jeans Questo colore Però c'era anche Di altri colori Insomma Questa azzurrina Io non metto mai Questo colore azzurrino Però sono molto buone Di qualità Al tessuto Vi ho preso Questo qua È un maxidress Io adoro Il maxidress Ragazzi Bianco Lo cercavo E finalmente L'ho trovato A costine Vedete com'è bello C'è È stupendo Questo con un cintone In vita E questo L'ho pagato Vorrei dirvi i prezzi Ma praticamente Non ci sono Da nessuna parte Comunque Mi piace molto La qualità Dei vestiti Calzedone Camoville E poi ho preso Questo collo Ragazzi Che è stupendo Mi piace un sacco Questo Mi ricordo Stava intorno ai 20-30 euro Ovviamente È finto Come anche le pelliclette Che avevo preso Ed è bellissimo Si mette così E c'è anche Appunto Si inserisce Dove cavolo Si inserisce Ah Si inserisce Qui dentro Vi faccio vedere Bellissimo Odoro Sembra la donna Delle neve Con questo No vabbè Spettacularis Sto cercando Ragazzi Un cappello Magari Ditemi Nei commenti Mi servirebbe Uno di quei cappelli Sapete che si portano Adesso Tipo basco Si chiamano così Quelli fatti così Però lo vorrei Tipo di vellutino Mi piacerebbe Mi piacerebbe Un po' caldo Insomma Fatemi sapere Nei commenti Dove posso andare A comprarlo Perché mi piacerebbe Un sacco Scusatemi Avevo dimenticato Di farvi vedere Questa busta Da Calvin Klein E allora Praticamente C'è questa felpa Che ho preso Bellissima Di questo rosa Che adoro Che si intona Anche i miei cuscini È bellissima Ragazze È rosa E poi ho preso Un po' di intimo Quindi un reggiseno Calvin Klein È molto molto carino È un po' di intimo E questo era tutto Questo è il cornino Carnite a giù Vedete ragazzi Si può agganciare A diverse lunghezze Appunto perché Ha la catenina Regolabile È stupendo Si abbina anche Con questo outfit Vabbè ragazzi Vi mando un bacio Ciao ciao Ragazzi Quindi questo era tutto Mi raccomando Lasciate un bel pollice Al mio video Io ho Dei muscoli salverati Ragazzi Ma che bello Che bello Quando C'hai un po' di spallina Che ti esce fuori Da questo bollo Ragazzi Aspetto i vostri like Mi raccomando Tanti tanti like Che fanno tanto bene Al cuoricino Tanti commentini Buon Natale Baci 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 Vi aspetto su Caritashop.com Per i gioielli Fate in fretta Vanno a ruba Ciao famiglie Vanno a ruba